amici e amici di LNP Pass buonasera e benvenuti al Palafit Line stracolmo di colori bianco blu ma anche il bianco rosso di Trieste Fabrizio Provera e Pietro Terraneo per una gara due Pietro che già vive o morire sportivamente giù il primo gettone via gara due di finale tabellone oro campionato di Serie 2 Lega nazionale fa la canestra Brooks scarica Reyes Bruzier a chilometri di spazio e muore di un giallo Bucarelli intelligente quella di Inki perché anche tirare da Treman non ha fatto mamma mia mamma mia Bruzier che cosa fa? c'è una cancù impeccabile ci prova Minalo invece Trieste entra quasi tutto Reyes sbaglia prende il rimbalzo cade rimbalzo di Vildera Minalo 5 di me e di tanto anche Nicolic servito da Berdini Braschini Ikei penetra alza Gersola Moniano buona difesa di Cantu buona difesa di Cantu però Brooks è un campione e ne segna due la finta ma non c'è il tiro Cesana io non so come definire questo ragazzo mamma mia Vildera schiaccia buona cancù si sta ragionando Bucarelli canestro valido e fallo subito Filloi non aveva ancora segnato il gaucho Candussi Filloi che pallati degli arbitri quindi tre punti Justin Reyes è assolutamente un fenomeno Vildera Candussi Lasse Vildera Candussi Baldirusi Moraschini una bomba in Reyes cercherà il trentello si gira cerca Filloi Filloi s'estensione 20 secondi andrà a tiro Follette è assolutamente inarrestabile l'azione Reyes scarca Finita Candussi tre bombe di Candussi Ruzziere 12 4 secondi ci mette anche la tripa Ruzziere 10 punteggio Bugiardo 83 a 73 e allora Appaladesio finisce gara 2 83 a 73 Trieste e Spugna per la seconda volta in due giorni in tre giorni in Paladesio e si avvia a ritirare il biglietto per il paradiso della Serie A1